Tre operai che per anni hanno lavorato in raffineria sono stati ammessi come parti civili nel giudizio avviato contro ex manager e tecnici di Eni ma anche imprenditori dell'indotto. Sono tutti accusati di lesioni a seguito dell'esposizione all'amianto degli stessi lavoratori pericolose fibre che hanno contribuito a farli ammalare, almeno in base a quanto contestato dai PM della Procura. Niente da fare invece per la sezione locale dell'osservatorio nazionale amianto, non ammessa dal giudice Miriam D'Amore in base all'ordinanza emessa ma anche il requisito formale di una delibera assembleare. Lavoratori e l'associazione sono rappresentati dai legali Davide Ancone e Lucio Greco. I difensori e gli imputati hanno contestato però la costituzione di tutte le parti civili. Nel giudizio entra la società raffineria di Gela come responsabile civile, così come è chiesto proprio dai legali degli operai e dell'associazione. Le accuse vengono mosse contro 18 imputati. In base alle contestazioni non sarebbero state adottate le necessarie misure per impedire l'esposizione all'amianto dei lavoratori impegnati tra gli impianti della fabbrica di Contrada Piana del Signore.